buongiorno a tutti bentrovati è un piacere essere qua questa mattina con un grande artista musicista nonché tastierista di questa storica band che ha segnato un po l'infanzia un po di tutti la mia in primis che io lo posso dire di averle seguiti da sempre ho il piacere con me di avere oggi il tastierista dell'azienda gigi gamedda buongiorno gigi buongiorno ciao ci troviamo qua questo oggi per parlare del dell'ultimo lavoro appunto uscito in questi giorni l'ultimo album che si intitola antistasis e ricordiamo i membri dei dei d'azienda nicola nite la voce che dal 2013 fa parte del gruppo e un altro storico membro dei d'azienda gigi gino marielli il chitarista solista appunto i d'azienda sono sempre state un gruppo etno pop rock presente a livello nazionale hanno fatto la storia e continuano a fare la storia come dicevo appunto prima è uscito un singolo dell'album la ricerca del tempo perduto appunto in quest'ultimo singolo che parla di un viaggio che ogni uomo percorre per trovare la propria strada secondo te quali possono essere quegli elementi di deviazione di traiettoria e quali quelli che ti fanno capire che sei al posto giusto nel momento giusto questo è un domandone come intanto allora la ricerca la ricerca del tempo perduto un po il titolo della canzone è stato proprio preso in prestito da un'opera di di sette volumi di prose che alla ricerca del tempo perduto nonostante questo nessuno di noi l'ha mai letto e gino che ha scritto il testo della musica neanche lui l'ha letto però è un'opera molto famosa e diciamo che tratta diversi temi oltre a questa domanda che mi hai fatto tu che cercherò di risponderti non è molto facile c'è anche il fatto che la ricerca del tempo perduto il testo della canzone un po quello che ci riporta quello che sono i nostri i nostri ganci fissi no basta l'odore di un cibo che noi mangiavamo da nostra nonna quando eravamo bambini che ci riporta immediatamente indietro di di 40 50 anni da quando eravamo quando eravamo in teneretà e sono praticamente dei flashback che vengono descritti nel testo tu invece mi chiedi quali sono i momenti dove noi ci dobbiamo accorgere se siamo nella strada sbagliato se siamo il posto giusto esatto guarda devo dirti una cosa io sono un istintivo anche se non sono una testa calda sono un istintivo e spesso adotto la strada del cuore capito preferisco scegliere di percorrere la strada del cuore se poi mi rendo conto che non mi ha portato dove avrei preferito andare mi godo ugualmente quello che ho tenuto perché non si può non si può essere degli scacchisti o degli ingegneri soprattutto nelle scelte importanti della nostra vita nel testo canti vado verso il tuo nome e spero di perderci il cuore rappresenta un'ingitazione a lasciare andare i propri sentimenti certo che sì è proprio quello guarda ed è esattamente quello quello di di lasciarci andare di senza senza nessuna vergogna e senza nessuna paura poi di doverci pentire chissà di che cosa è proprio giusto è così ha interpretato perfettamente avete definito la pubblicazione di quest'album come una liberazione perché allora in primis il motivo è questo quest'album è entrato in cantiere quattro anni fa quindi ancora non c'era il covid poi il covid ha ulteriormente rallentato le cose però è un disco lungo è un disco pensato nonostante sia è paradossale quello che sto dicendo è un disco pensato nonostante sia un disco molto istintivo è un disco molto diverso dei diverso nel senso che i brani sono molto diversi tra di loro diciamo che abbracciamo un po tutti i generi come non abbiamo mai fatto prima nei nostri dischi cioè qui si va qui c'è un brano che hanno sbiere che è pura tecno e c'è un brano invece che pura musica classica che è oro di stallo che fra le altre cose ricordiamo che nei vostri testi è sempre presente la variante in dialetto sardo logudorese che è una vostra scelta perché comunque è la vostra zona il vostro territorio di appartenenza che non è mai mancato sì è vero non solo il nostro territorio ma il logudorese è la lingua ufficiale scelta dagli esperti sardi dove hanno riconosciuto la poesia sarda e il logudorese nonostante si scriva anche in campidanese o in barbaricino però la lingua ufficiale se vogliamo usare questo termine che è entrata nella letteratura sarda è il logudorese in questi giorni avete presentato con una diretta social il singolo nell'ex carcere di San Sebastiano a Sassari che valenza ha questo luogo per i d'azienda? allora questo luogo è un luogo forte energeticamente forte intanto perché è stato in carcere per oltre 150 anni negli ultimi dieci anni purtroppo per queste ore burocratiche è diventato uno dei carceri più brutti e più duri d'Italia infatti è stato coinvolto in diversi scandali ha subito diverse rivolte adesso è rinato a nuova vita diciamo che ha subito una trasformazione perché da carcere adesso è diventato una sorta di museo non siamo i soli ad averlo utilizzato sono stati girati altri due film è stata fatta un'intera giornata anzi due intera giornate per farlo visitare subito dopo il trasferimento nel nuovo carcere di Bancali per cui adesso l'ex carcere di San Sebastiano è diventato un luogo di cultura e spero lo sarà per sempre una carriera ultra trendennale la vostra perché ricordiamo che il gruppo si è formato nel 1988 quali sono secondo te i momenti più belli? dai non possiamo non citare Spunta la nuova del mondo intanto perché quello ci ha cambiato la vita artistica e non solo ci ha cambiato proprio la vita in tutti i sensi che poi avete fatto sto brano che ha fatto venire proprio la pelle d'oca a chiunque io posso parlare per esperienza vissuta ero piccolissimo il 30 annale di Spunta la nuova del monte si 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 è diventato un evergreen diciamo che Spunta la nuova del monte è un brano immortale perché c'era poi tra l'altro questa unione di voci tra Andrea il combiano Andrea Parodi che purtroppo oggi non c'è più che comunque dava comunque una sorta di tradizionalità di territorio di cultura che magari prima non era presente o comunque non era arrivata almeno fino a quella data in tutte le tv insomma in tutte le fonti di informazione si 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 hai perfettamente ragione abbiamo sdoganato un genere nel periodo di pandemia dal 2020 ad oggi non vi siete fermati avete portato avanti un progetto con l'università di Sassari ci vuoi parlare? ci vuoi dire qualcosa? come mai proprio con l'università di Sassari? certo certo diciamo una cosa questa pandemia a noi e a tutti i nostri colleghi ci ha levato la cosa più importante che è quella dei live il contatto col pubblico ci manca tantissimo per cui se vogliamo comunicare se vogliamo suonare ed esibirci anche se non davanti alla gente dobbiamo farlo via streaming questo dell'Aulamagna dell'università di Sassari è un concerto che abbiamo voluto regalare diciamo così a tutto il nostro pubblico non solo è stato fatto in Sassari ma chi ci può seguire gli streaming ti possono seguire tutto il mondo ha avuto un grandissimo successo ha avuto un grandissimo successo e noi avevamo proprio bisogno di esprimerci avevamo bisogno di farci ascoltare spero io spero non diventi un'abitudine quella di dover suonare in streaming perché vuol dire che le cose non si stanno risolvendo per cui uno streaming ogni tanto va bene ma preghiamo affinché riaprano i teatri affinché riaprano le piazze affinché riaprano gli stadi perché noi abbiamo bisogno della gente abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno dei concerti e appunto come detto noi pure non vediamo l'ora di vedervi live e vedervi in mezzo a noi avete in programma un tour? abbiamo un programma un tour che purtroppo deve andare pari passo a tutto ciò che ci concedono gli eventi vediamo lo sviluppo noi speriamo tanto che con questi vaccini si esca definitivamente da quest'incubo nel caso noi siamo già pronti noi siamo proprio pronti perché è dal mese di dicembre che siamo in sala prove a suonare quasi tutti i giorni come dovesse esserci il primo segnale di riapertura noi siamo pronti con i concerti speriamo bene, dai bene, ti ringrazio Gigi sei stato gentilissimo e speriamo allora di vederci presto a presto, un abbraccio buona giornata ciao 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 Grazie a tutti.